Da lunedì sono ripartiti i lavori in piazza Sant'Ambrogio a Vigevano e hanno portato modifiche alla viabilità. L'area è stata nuovamente adibita a cantiere per proseguire i lavori di consolidamento della copertura del naviglio sforzesco, che erano partiti nel 2019 e termineranno definitivamente ad ottobre di quest'anno. Questa parte di lavori è stata divisa in tre fasi e si concluderà a metà giugno. Per ogni fase cambierà la viabilità. L'amministrazione ha deciso di scaglionare i lavori per non ridurre troppo i posti auto, una situazione che sarebbe andata a discapito di residenti e commercianti. Per questa prima fase, che durerà fino ad aprile, non si può entrare nel parcheggio se si arriva da via Decembrio. Arrivando da via 26 Aprile si può accedere solo alla parte di parcheggio di fronte alla scuola Mediabussi. Da qui si può uscire soltanto facendo inversione e procedendo verso la scuola elementare Regina Margherita. Si può quindi accedere alla piazza solo provenendo da via Roccavecchia. Per permettere agli automobilisti di parcheggiare è stato riaperto il varco di fronte alla gelateria. Le variazioni quindi sono simili alle modifiche effettuate l'ultima volta. Il cantiere ha tolto una quindicina di parcheggi per le auto. I motociclisti invece sono stati più sfortunati perché per le moto non è rimasto alcuno stallo libero. Con l'arrivo della bella stagione aumenterà la circolazione dei motocicli, ma in piazza Sant'Ambrogio non c'è spazio per parcheggiarli. Una situazione che ha creato confusione sin dalle prime ore di lunedì, quando due ragazzi si chiedevano dove avrebbero potuto parcheggiare il mezzo. Ritorna la confusione proprio adesso che i cittadini si erano appena riabituati alla normalità. Dovranno però convivere con queste ed ulteriori modifiche per altri quattro mesi.